Dal San Siro finisce così Inter 0 Liverpool 2 le individualità inglesi hanno fatto la differenza anche soprattutto quelli entrati tra la panchina i gambi sono stati perfetti di Klopp che ovviamente però aveva gente a disposizione che poteva tranquillamente giocare in qualunque scuola del mondo tranne certe eccezioni Oggi l'Inter fa una signor partita mi dispiace veramente tanto perché in Europa ragazzi si difano le italiane e quindi mi dispiace che l'Inter abbia perso e a mio modo di vedere neanche meritando la sconfitta perché il Liverpool oggi fa 2 tiri in porta 2 tiri in porta e fa 2 gol perché c'è la qualità dei singoli ma non tanto perché hanno giocato meglio dell'Inter è un risultato bugiardo Però dall'altra parte l'Inter ne fa 0 di tiri eh e comunque il Liverpool ne ha fatti gli stessi fino al 75esimo dal 75esimo in poi 2 tiri 2 gol questo è questo è così Ciao e bentrovati iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati attivate la campanella così ogni giorno vi rivedranno le notifiche su tutti i miei nuovi contenuti che escono ogni giorno sul canale costantemente Che dire mi dispiace molto perché l'Inter oggi ha giocato a viso aperto una partita difficilissima contro il Liverpool Ora ci sta il ritorno da giocare questo è poco ma sicuro non ci sta più neanche la regola dei gol fuori casa che in qualche modo potrebbe avvantaggiare la squadra nera azzurra Ma sarà comunque difficile andare lì in Inghilterra e fare il risultato di due gol di scarto per andare supplementari contro il Liverpool Perché sappiamo che quindi con il 2 a 0 si va ai supplementari con il 3 a 1 per l'Inter si va ai supplementari Insomma con qualunque risultato inerente ai due gol di scarto Sarà dura sarà dura ma se la devono giocare perché è una partita secca dove devi partire con la mentalità che stai 0 a 0 Devi vincere con più gol possibili questo è Mi dispiace perché diciamo nel primo tempo è una super Inter attacco che poteva addirittura fare anche gol Perché oggi prende la traversa c'è la Noglu al quindicesimo minuto La traversa che sta ancora tremando con cross di Perisic basso Lui in un istante stoppa e calcia in porta e la traversa nega il gol al turco E poi è la prima volta che in questa edizione della Champions League dopo un tempo ci sono 0 di l'importa di entrambe le squadre È un dato che se da una parte ci fa riflettere per l'attacco di entrambe le squadre Dall'altra ci fa anche pensare che le difese siano state perfette ed è così Perché oggi Conate è stato grandioso Più di Van Dijk per me, più di Van Dijk perché certe chiusure difensive che ha fatto questo calciatore Ex Lipsi ha comunque pagato 40 milioni mica spicci Sono stati formidabili oggi per il Liverpool Conate è un gran giocatore che ha fatto la differenza quest'oggi Skriniar poi non ne parliamo perché ha fatto una partita straordinaria Salvando anche un gol già fatto da Luis Diaz che avanza velocemente davanti ad Andanovic E lui chiude veramente bene Però parliamoci chiaro, l'Inter ha giocato pure meglio Ha preso la traversa, ha tiri fuori perché ce ne sono stati tanti Anche per il Liverpool però nello specchio 0 nel primo tempo Poi nel secondo tempo rientra meglio l'Inter C'è poco da fare, fase offensiva veramente Forte Forte con qualità Però è mancata secondo me proprio la lucidità Perché in certe circostanze Dzeko che viene lanciato ed è solo davanti al portiere E c'è un giocatore in mezzo dell'Inter marcato Lui perde l'attimo di calciare E la dà in mezzo per far sì che comunque vuoi la chiusura del Liverpool, del difensore Quindi è mancata la lucidità sotto questo punto di vista È poco ma sicuro Intanto l'Inter perde E poi gol annullato all'Inter a Dzeko Che però era già partito in posizione di offside Si vedeva con un gran lancio comunque di Vidal Che ha fatto una gran partita Ha caricato i tifosi Uno che si deve prendere l'Inter sulle spalle in questa partita Lo ha fatto in parte Però poi non può nulla Perché poi l'Inter perde 2-0 Non per lui Ma per il Liverpool Che ha tirato fuori le qualità C'è poco da fare Ha giocato meglio l'Inter nel secondo tempo Ma non hanno preso la porta Anche il Liverpool è vero Però Appena hanno calciato due volte Due tiri e due gol Perché poi segna Firmino al 75esimo Dalla panchina ovviamente Cambi veramente Che qualunque squadra di Serie A Si sogna di avere in squadra da titolare Segna Firmino Angolo perfetto sul primo palo di Robertson E girata di testa Che gol Che gol Inmeritato Lo so però È un gran gol C'è poco da fare Di testa Un inserimento precario sul primo palo E poi arriverà doppio di Momo Salah Che è un giocatore straordinario Lo sappiamo Secondo tira in porta Subito gol E cross dentro La spizzata di Van Dijk Arriva il padone fuori a Salah Che calcia Deviazione Probabilmente ingannabile Di Bastoni Che Beh Fandanovic però La balla va centrale E fa il 2-0 E quindi L'Inter esce Sconfitta così da San Siro Magre detici Forza gli italiani In Europa Al ritorno Dovete andare Con la consapevolezza Di essere forti E oggi l'avete dimostrato Contro un grande Liverpool Ve la siete lottata Fino alla fine Di sangue Con davanti Tutti i rifosi del San Siro Bravi Brava l'Inter Per chi ha giocato A miso aperto Contro una grande squadra C'è poco da fare Ciao ragazzi Grazie a tutti